Giuseppe Galli, reduce dall'esperienza al campionato italiano, terzo posto, il podio è arrivato, comunque sia la faccia non è molto soddisfatta, più o meno che hai visto dalle foto. Difatti, allora, non mi aspettavo come è andata. Terzo classificato al campionato italiano 2019 di Rimini Welles. È stata una gara dura, sofferta, i giudici sono stati severissimi, ovviamente come da campionato italiano come deve essere fatto, non hanno fatto passare nessuna rap non valida e di fatti io sono rimasto fregato nel Goblet Squat con 24 kg. Dovevo fare 20 ripetizioni pulite, ne ho fatte 28, di cui quelle 8 erano sbagliate, il tempo passava, si è allungato, i secondi passavano sempre di più e sono rimasto fregato. Che dire, la routine è stata molto dura, consiste, allora, era un circuito che bisognava svolgere entro i 7 minuti, di cui totale 142 rap, ripetizioni, di cui 40 con giubbotto esaurato di 10 kg. La routine era composta di Muscle Up, Pull Up, Dips, Push Up, Goblet Squat e Box Jump. Ho fatto tutto il circuito nel minor tempo possibile, però, come vi ho detto prima, sono rimasto fregato nel Goblet Squat. E che dire, sempre terzo classificato, l'altro anno secondo, poi sono stato anche primo classificato, che dire, non mi posso lamentare perché alla fine sono sempre sul podio. Mi sono sfidato con gente di 18-20 anni. E questa è una cosa da far capire. Mi sono sfidato con gente di 18-20 anni e poi con gente professionista che si allenano due o tre volte al giorno e tutti i giorni. Cioè, non è che tu ti sfidi con gente normale. Tu ti sfidi con gente che... Devo dire una cosa del fatto della gara, che questa l'ho sofferta davvero e l'abbiamo sofferta anche tutti gli altri atleti. E, di fatti, sono stati tutti forti e mi sono congratulato con loro. Ci veniva da svenire. Non so se era stato il contesto della gara, l'emozione, l'adrenalina, tutto il pubblico che ci guardava. La tensione del campionato italiano. Avevo i battiti cardieci al 2000. Ero diventato grigio, bianco, in fascia, cadaverico. Ma non solo io, anche tutti gli altri atleti più piccoli di me che ci siamo sfidati. Tanti neanche sono riusciti a concludere la routine. Tanti si sono anche fermati. E noi tutti alla fine ci siamo dovuti prendere lo zucchero per evitare un collasso. Non so, è stata la prima volta. Purtroppo queste cose qui le possono capire soltanto le persone, gli atleti professionisti che svolgono gare agonistiche. Ok? Perché, allora, io in allenamento questa routine ci mettevo 3 minuti e 40, 4 minuti. In gara ci ho messo 5 minuti e 0,6 secondi. Quindi è subentrato anche l'emotività, l'emozione e tutto il resto. Non mi voglio ritirare. Quest'anno il nuovo campionato penso che passerò di categoria o farò l'elitto o la zavorra. Vorrei ringraziare alle mie ragazze che mi ha sempre sostenuto. Voglio ringraziare tutti i miei allievi, tutti i miei fans, tutti i miei seguaci che mi seguono online. E che dire, volevo dare anche un grande saluto a Alessio Romagnolo e a Emanuele Amari, che loro mi sostengono sempre e sono stati sempre vicini a me. E che dire, mai a mollare e mai a rendersi. Grazie a tutti.